Ciao ragazzi, sono Andy, benvenuti da Musicarte a Chiaravalle. Ho il piacere oggi di presentarvi questa bellissima Ibanez PS1CM Paul Stanley Signature, una chitarra fantastica, ovviamente una limited edition made in Japan. Una chitarra body mogano con top in acero, anche son manico in acero, set neck, semplicissima, due unbucker, simul duncan custom 5 e 59. Tono, volume, volume. Una chitarra molto comoda da suonare, anche se molto impegnativa. Divertente, una botta clamorosa, veramente, un sacco di sustain, ve la farò sentire adesso un po' con i distolti e anche con qualche pulito. Sono dentro una Bogner, Bogner Atma, con un TC flashback. Divertente, un po' con i distolti e un po' con i distolti e un po' con i distolti. Divertente, un po' con i distolti e un po' con i distolti. Divertente, un po' con i distolti e un po' con i distolti e un po' con i distolti. Mi stanco prima io che lei. alla prossima